E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati a questo nuovo episodio di Sopravvivisione ragazzi Questo episodio ragazzi mi è piaciuto talmente tanto che io lo sto portando veramente tantissimo Ragazzi vi ringrazio Allora dove è l'entrata è accessibile? Vabbè dai facciamo sempre ok ci ha dato una bella posizione Allora ragazzi voi lasciate un bellissimo like e scrivete mi raccomando Ok scusate per le mie parole Uh aumento di livello in livello 8 Allora Lelia Signora Lelia Guardate Io devo arrivare a 3000 monete perché ragazzi Guardate che cosa c'è No 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 raga Raga no Raga no Raga no però No No Porca miseria Ragazzi nello scorso episodio c'era l'ascia ha cambiato Cambiato più che vende dai Guardate Guardate ragazzi non lo vende più Non lo vende più Uffa Vabbè dai ragazzi non fa niente Iniziamo subito Ok abbiamo preso un sacco di Allora Mappa Ok ci abbiamo molte Interna di base scientifica Andiamo a andare a rifugio dei partiti sto giro Iniziamo da Ah mamma Andata Ah meno male che non scusi Non scusi mi sono andata a mettere la benzina Alla macchina di Frank Allora forso Forso qui vorrei stato Io non so se non capace di Ok sto giro sono venuto con la moto Che con Frank ragazzi non ci vengo più perché quello lì mi lascia Che c'è da dire Tim Ma come Che missione era questa Questa non era una missione Dai andiamo a chiedere un'altra Ma questa non è Non bisogna andare a parlare Con un bardito Dai A me ne un'altra Dammi le monete Ho i soldi Ho i soldi Ragazzi bisogna che vado da lei Perché Lei mi dà i soldi Ok Quindi ragazzi possiamo comprarci anche il coltello Che ho visto che è Forse ma lascia Ancora più forte Quel coltello schifoso Che cazzi Ok Ce l'ho Lo limita a me Ragazzi devo affrontare barditi Ti amo molti sono Ragazzi ricarica Mi l'ho ammazzato Mi l'ho ammazzato Mi l'ho fatto pronta Oh che stifoso Aio Cosa c'è di questo Bardito Oh no ragazzi mi ammazzano Ragazzi questi qui mi ammazzano Non davo forti barditi No 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 cavolo Guardaccia Guardaccia Denda Denda ultimo ok allora mamma uscire da qua ma hanno rapito lei quasi scientifica del vecchio benissimo ha fatto venire un pochettino l'ansia ragazzi però ci siamo ok 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 tutti giusti padella la mano si super padella faccio guardare il cuore sto zonbato i gatti per il prograccio vediamo lì da un grande bambino c'è un sacco di robe buone miei almeno sono sopravvissuto quindi devo fare una scelta vai ok cosa devo fare cerca anche la starza di un gioco ok ok oddio pieno di zombie oddio oddio ragazzi c'è uno bello svuot di livello 9 ok 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 ci siamo accesso consentito ragazzi ci siamo ahhh ma quanti siete giù 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 buoni 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 ragazzi buoni ci finirò con la padella giù Everybody vai chi lucia lucia cosa devo fare cerca le sccenteredi vai 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 cerca la centrale è stanza ridica dove sarà la centrale un zombie dalla scuola ci deve essere troppo forti ok c'è pochissima vita c'è qualcosa per rigenerarmi? eeeh, andiamo andiamo usa, usa usato il soldo di rigenerarmi usato 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 nono non ci sono chiedi eeeh ok ok che ti puoi stoppare ok ma che altro torniamo la città sempre solite missioni che che c'è questo incontro casuale affronta sono scontrati un incontro fino a qui c'è? un incontro e un amico un cammino un'azionale ok ci sono oggi a un manchio sprecato a ok Che cosa è questa? Ok, è questo qui da fare Perché si rompe? Ragazzi, ma perché? Ok, ok L'ultimo! No! No! Sì! Ce l'ha fatta! Oh, munizioni allora Meglio così Oh, ho scenduto qualcuno Ho scenduto qualcuno Dove dai? Andiamo a casa di Acivor Precarica 15 po' Olè! Ho un data di zoom in 1 No Inna Vabbè 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 Ok, per ora non sta arrivando nessuno Ok, è arrivando da qua È arrivando da qua adesso Questo Carica Carica, carica, carica È arrivata da qua Ragazzi Ragazzi C'ho l'inventario pieno Ragazzi c'ho l'inventario pieno Bisogna Utilizzare la cosa Butta, butta, butta 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 Putta Uh, questo faccio trovo delle munizioni Ok Adesso non ne voglio far toccare Poi 따�ino che cosa mia Ok Bene, ma ți ensure di dove un un cane Ok, tutto il altro arrivo, no? Arrivando lì, adesso arrivo lì Ok, come pongo Che tala? Era un mò che pù Vai, 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 vai Oh mio dio, ragazzi, non mi hanno mai toccato Prima volta Volevo dire Fabrica di città Recompensa 200 mili Ragazzi, io già ho potuto ricomprare un coltello Ma non so se lo farò Ragazzi Ragazzi, se sotto questo video Ragazzi Arriviamo a due like Giuro che lo compro Lo giuro, lo giuro che lo compro Giuro che lo compro Quindi mi raccomando, ragazzi, lasciate like E nel prossimo episodio Comprerò il coltello Ok, ragazzi, nel prossimo episodio Comprerò il coltello Allora no dios parola ah 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 ma aspett per ve stared RENATA! ah! stupido! ruff! ruff! che c'è questo? ma io... non mi muore che ho bisogno di me capi questo? zompacci! ricarica ricarica sto mescolando con la padella ultima ondata che c'è questo? che c'è questo? giù cagnaccio giù e ciò 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 oddio uffa allora ragazzi usa usa l'equipaggio prendiamo l'equipaggio munizioni 329 su queste equipaggio che cosa sono i munizioni per un momento queste non mi vanno bene queste vanno bene che vanno bene queste per la mia pistola queste cosa sono non 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 ok adesso Non è solo quello che c'è più il suo lavoro. Se non lo so, non lo so, non lo so. Perché la mia corsa è un'azienda? Non lo so, non lo so. 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 Non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. questo missione è completa bene torniamo al centro andiamo a fare benzina allora ragazzi se questo video ragazzi vi è piaciuto e volete che scioppo il coltello mi raccomando ragazzi lasciate un bel like iscrivetevi al canale e io ragazzi vi auguro una buona giornata e ciao ragazzi vi è andato bene ciao ciao